Ben trovati a tutti. L'anno scorso è stato un bello anno e ci ha fatto vedere delle belle cose. Quest'anno sarà abbastanza bello nel 2017. Non so cosa dire, se ne andrà a finire. Auguri a Bobax e a tutti i vloggers per il lavoro svolto e per i 20.000 iscritti. Penso che siano già oltre 20.000. In particolare saluto per il mio amico Alex che abita a Parma. E' stato il suo cumbre anno. Buon anno. Tante belle cose per te e per la tua famiglia. Questa giornata è dedicata per il battesimo del Signore. La grotta si chiama Giordania, con la parola Giordania. Ecco, ci siamo. Ecco la grotta. Però non è della morte ma è la grotta della vita. Pronti? Pronti? Non. C'è stato un brutto scherzo con il telefono. Ci siamo andati a buttare nell'acqua e si è spinto il telefono. La batteria non è tenuta. Pensavo che era una mia affronta. E invece sono meno 42 ore. Guardate ragazzo, appena uscito dall'acqua. Ci sono due a la mia famiglia. Non ho chiamato. Vieni qualcosa che mi sono andato a le darvi. Tu ha dire in Italia? Si, si, è il secondo. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, Serio. Allora, per volta. Ciao, ciao a tutti. E l'è per volta. E il secondo turno. Si va avanti, ragazzi, è bello, è bagnato, si fa freddo. Oh, grazie. È stato molto bello. La seconda volta oggi è un po' dura per me, ma è per voi. Lioca, svegli il giorno di te. Se lo vedessi, lo senti. Bobax, 20 mila vuol dire tanto. Una volta per 10 mila, la seconda volta per 20 mila. Vuol dire che sta bene così. L'anno prossimo vedremo cosa andrà a finire e come andrà a finire. Per ora va tutto bene. Ricordatevi, un corpo sana, una mente sana. Tutto qui. Grazie mille. È un buon anno 2017. Non entri, ti parlo. E' bello. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.